amiche ed amici digi case buongiorno bentornati come tutti lunedì vi porto all'interno di una delle nostre abitazioni per farvi vedere tutti i dettagli anche più nascosti oggi mi trovo nel centro di valgoglio davvero in venti passi sia gli alimentari all'edicola a tutti i servizi davvero alla posta a tutto quello che serve in un paesino di montagna qui poggiato al sole guardate sto registrando in questo momento sono le nove del mattino e valgoglio e la valle del sole viene chiamata è già baciata dal sole qui tra l'altro siamo esposti proprio a sud ovest abbiamo il sole al mattino nella camera da letto che vi mostrerò e al pomeriggio qua vi arriverà verso mezzogiorno qua per poi tramontarvi di fronte di là verso tutti i laghi sappiate che valgoglio anzi informatevi partono decine decine di camminate straordinarie verso tutti i laghi che ci sono qua dietro qua sopra un luogo davvero magico quindi qui poggiato al sole a mille metri c'è valgoglio che è un paese appena sopra a gromo qui in alta valle seriana quello che vi mostro oggi è un appartamento su due livelli tutto abitabile anche la mansarda a 98 mila compreso di box quindi qua sotto qua sotto c'è il box auto privato poi lì è dove ho parcheggiato io la mia macchina invece sono parcheggi comunali e liberi ma davvero a piedi in un minuto si è proprio nel centro la vedete forse la chiesa la intravedete e appena prima c'è la piazza con tutti i servizi là c'è la biblioteca e proprio di fronte c'è gli alimentari davvero quindi è a prova di chi cerca qualcosa qualcosa che abbia la possibilità di raggiungere i servizi a piedi sono sul terrazzo della casa quindi sappiate che qua vedete c'è la tenda perché il sole non manca mai adesso entriamo nell'appartamento io entro al contrario entro dalla zona terrazzo ma poi vi faccio vedere anche l'ingresso dell'appartamento innanzitutto ha un cammino meraviglioso di quelli chiusi di quelli ventilati quindi per chi ama l'idea di avere un bel cammino in un ambiente di montagna eccolo qua qui abbiamo una cucina bellissima vi ricordo che c'è il riscaldamento autonomo a metano lì c'è la caldaia eccola qua la cucina guardate come è stata studiata ci sono dei mobiletti qua scorrevoli che dividono poi la cassa panca dove potrete mangiare davvero in tante persone ecco lì la televisione il camino la vetratona e da questa parte c'è poi la scala che porta la mansarda e il divano ma vedete gli spazi sono davvero ampi anche per poter modificare l'aspetto di questo soggiorno che è davvero molto molto interessante porta blindata d'ingresso poi vi farò vedere ma la cosa interessante che è al di là della mansarda abitabile dove vi porterò vi faccio vedere che qui già al piano quindi al piano primo siamo al piano primo c'è già una camera matrimoniale eccola qua la camera da letto con questo armadione meraviglioso vedete il sole là che sta entrando di prima mattina guardate quanto spazio che c'è lateralmente loro hanno messo un divano letto quindi gli piace l'idea di tirar su anche il letto durante il giorno avere uno spazio magari anche per i figli per per farli giocare anche magari in un momento in cui dovesse piovere o quant'altro vi faccio vedere mi affaccio perché eccolo qua il sole vedete appena sorto sono le 9 precise le 9 e 5 in questo momento e questo dietro è un giardino di proprietà dove vedete il pinetto è proprio in scheda catastale quando verrete vi mostrerò avete anche questa possibilità per fare un barbecue esterno con gli amici avete anche un pezzo di giardino esterno eccola qua la camera da letto spero si sia vista bene qua nel disimpegno abbiamo un bell'armadione che fa da ripostiglio guardate vedete proprio rifuso peccato uno scopo e scale quant'altro e anche qua sopra abbiamo tutta la possibilità di ricoverare quello che vogliamo quindi al di là dell'armadione gigantesco abbiamo quello poi abbiamo il bagno eccolo qua all'ingresso sulla destra c'è il box doccia da 85 per 85 quindi molto molto grande water bidet lavandino l'attacco della lavatrice qui c'è persino un mobiletto e quella è la finestra da cui entra il sole di prima mattina eccoci qua ritorniamo nella zona giorno che non vi ho mostrato con tanta attenzione però la riguardiamo magari entrando anche dalla porta blindata perché no quindi eccoci qua si entra da lì dalla zona dei giardini c'è questo piccolo tunnel che porta poi all'ingresso vedete completamente coperto eccola qua la campanella che fa da citofono anche se citofono chiaramente c'è eccolo qua eccolo qua l'ingresso quindi che ci accoglie con questo calore con questa perlinatura in tutta la casa che rende davvero calda caldo l'ambiente eccolo infatti la cucina è ancora qualche postumo ma come avete visto sto migliorando anche a livello di voce eccolo qua il mobile che fa da cassa panca la cassa panca e il balcone usciamo ancora sul balcone prima di salire di salire sopra perché la vista che c'è proprio qua davanti è incredibile per chi ci conosce quella è novazza novazza di valgoglio invece questo è proprio il centro di valgoglio pazzesco un luogo unico siamo in via pradella quindi per chi vuole guardare su google pradella e eccolo qua il balcone di proprietà che domina tutta la vallata qua sotto c'è gromo andando in la cerdesio siamo a un quarto d'ora poi da clusone quindi dalla sede g case eccoci qua e poi andiamo nella chicca in questa mansarda abitabile è una scala comodissima molto larga larga 85 centimetri come vedete c'è una soletta di cemento quindi non c'è il solito assito di legno proprio perché è una mansarda completamente abitabile eccola qua con il pavimento e guardate che cosa ci accoglie che meraviglia nella parte bassa dove non è abitabile diciamo ci sono tutti questi armadi chiusi scorrevoli meravigliosi questo guarda verso i sentieri di valgoglio invece da questa parte guardate lo spettacolo ci sono due divani letto con altrettanti letti quindi due letti da questa parte due da questa parte più un letto matrimoniale quindi non vi conto nemmeno il numero dei posti letto perché sono davvero svariati lì c'è una culla per il bambino e questa è la finestrella nel lucernale con la piccola zanzariera per gli insetti che guarda verso il paese di valgoglio accogli lì i caloriferi chiaramente vedete un calorifero lì un calorifero là in fondo qua ci sono anche due poltroncine che abbracciano un alto televisione televisore ecco il sole che entra al mattino da questa parte verso est per poi arrivare di là verso sud ovest quando superiamo il mezzogiorno guardate che bello il calore del legno è davvero pazzesco è vi da un senso proprio di montagna particolare molto molto interessante come vi dicevo la soletta è in cemento quindi calcestruzzo quindi non si sente neanche il calpestio nel piano sotto ma la cosa interessante è avere proprio questa parte sopra completamente divisa da dalla camera matrimoniale che c'è che c'è sotto andiamo ancora una volta a vedere la zona giorno davvero vi invito a venire a vedere questa soluzione in questo ponte del primo maggio o in qualsiasi altro giorno 0 3 4 6 2 3 9 3 3 o 3 2 0 0 3 3 3 4 3 3 2 per scrivermi anche via whatsapp eccoci qua intanto grazie grazie davvero a tutti io mi trovo in uno dei paesi che amo di più valgoglio quindi in alta valle seriana in provincia di bergamo siete a un'ora e un quarto da milano poi dipende chiaramente da da dove venite io raccomando questa soluzione proprio per chi cerca qualcosa che a piedi possa permettere di fare la spesa andare a mangiare qualcosa andare in edicola insomma andare in chiesa andare a farsi una passeggiate da qui c'è tutto vi ricordo che nel prezzo dei 98 mila è compreso il box quindi la casa è completissima non vedo l'ora di vedervi un caloroso saluto da stefano e da tutto lo staff di case grazie